Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog E niente, praticamente domenica... Ma perché mi fa questo effetto? Ok Niente, praticamente è successo che Domenica non abbiamo fatto granché, abbiamo pulito un po' casa Sì, papà che dorme E niente, mamma ha messo queste lucine Che non so se le vedete, ma sono bellissime A meno per mia prospettiva, poi ditemi voi Perché, vabbè, la luminosità così che sflascia un po' Non è male, perché, vabbè, mi piace tantissimo E niente, mi sono messa a giocare a Ratchet & Clank 1 Che, mamma mia, che difficile, mamma mia Sì, per chi non lo sapesse, io e Giovanni siamo appassionati di Ratchet & Clank Da quando eravamo piccoli E quindi niente, sono in questi... Praticamente ho cominciato domenica a giocarci E vabbè, sembra che ho le labbra rossissime Mentre in realtà ce le ho normali Vabbè, dai, io vi saluto Ci vediamo, vabbè, tra poco con un altro video E spero che questa qualità di video vi piaccia No, scusate il ritardo, ma... Adesso, tanto oggi che... Aspettate, ve lo confermo È mercoledì Vi faccio vedere un nuovo gioco che ho cominciato Ciao! Ciao!